Presentata in conferenza stampa la nuova stagione teatrale del comune di Castelfranco-Piandisco, gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo prenderanno il via a dicembre e termineranno ad aprile. Come rappresentante dell'amministrazione comunale di Castelfranco-Piandisco nella mia veste di Assessore alla Cultura sono molto lieta e orgogliosa di presentare questa stagione teatrale per l'anno 2024-2025 nel nostro bellissimo teatro Vanda Capodaglio e si trova a Castelfranco di sopra. Quest'anno la nostra stagione sarà arricchita da un maggior numero di spettacoli, infatti gli spettacoli passeranno da 6 a 8 spettacoli. Avremo numerosi artisti di fama nazionale come appunto Lucrezia Lante della Lovere, Massimo D'Apporto, abbiamo Lini Bruschetta, Claudio Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio insieme all'Orchestra Regionale della Toscana. Ci tengo a ringraziare in modo particolare la Fondazione Toscana Spettacolo che ha permesso attraverso la sua, la propria collaborazione, la realizzazione di questa bellissima stagione teatrale con grande competenza, precisione e grande collaborazione. Un lavoro condiviso con l'amministrazione comunale, una stagione di 8 spettacoli ricca di temi, ricca di interpreti importanti e di autori di testi importanti. Una stagione dedicata a tutta la cittadinanza che sicuramente sarà apprezzata e porterà appunto i cittadini, gli spettatori affezionati a venire a teatro e a uscirne con la voglia di tornare ancora a teatro. Finalmente il nostro teatro, il nostro bel teatro Vandacapodaglio ritorna al centro della cultura del nostro territorio, del nostro Valdarno. Quindi una grandissima soddisfazione, un'offerta migliore sia da un punto di vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo perché sono aumentati anche gli spettacoli, ci sono appunto attori di fama nazionale e chiaramente anche la decisione di cercare di portare gli spettacoli il fine settimana, venerdì e sabato, aumenterà sicuramente ancora di più il valore di questa già importante offerta teatrale. A corrollario della stagione di prosa sarà organizzata anche una particolare rassegna di appuntamenti dedicata alle famiglie e ai più piccoli e per il futuro si sta pensando anche ad un apposito cartellone dedicato alla concertistica.